Sono Ernesto Alecci, sindaco della città di Soverato, sono qui oggi per lanciare un appello, un messaggio, da alcune settimane la città di Soverato, ma tutto il comprensorio, si sta mobilitando per una raccolta solidaria a favore di Orlando. Orlando è un giovanissimo ragazzo di neppure 35 anni, purtroppo affetto da una grave patologia e dà la necessità di sostenere un intervento negli Stati Uniti, l'unico posto nel quale questi tipi di intervento sono effettuati, un intervento che però costa circa 400 mila dollari, oltre a tantissime spese di viaggio, di trasferimento e di altro tipo. Quindi abbiamo la necessità di raccogliere dei fondi che vengono versati sul Liban, sul conto corrente che in questo momento state vedendo in presso nel sottopancia. Vi chiedo quindi di dare il massimo a ognuno di voi per quelle che sono le proprie capacità. Sono orgoglioso di rappresentare in questo momento la Calabria e sono orgoglioso di rappresentare il Soveratese perché non mi aspettavo un'ondata di generosità di questa portata. Sono decine le manifestazioni, le associazioni, i cittadini che stanno veramente mostrando il volto migliore della Calabria che quando è chiamata in causa in azioni di solidarietà dimostra di non essere seconda a nessuno e quindi voglio ringraziare tutti quanti a nome di Orlando con il quale ho parlato stamattina. Anche lui si sente avvolto da tutto questo affetto e penso che era la migliore risposta che potevamo dare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!